Il titolo di Capitale Italiano della Cultura ha fatto nascere una nuova produzione culturale che è Made, il festival dedicato alla cultura d'impresa. È quindi un nuovo festival fortemente identitario perché racconterà la storia degli imprenditori del nostro territorio, delle imprese, il valore sociale delle imprese e quante sfide hanno affrontato e quante sfide hanno di fronte e quindi i cambiamenti, le trasformazioni nel senso dei cambiamenti ambientali, della sostenibilità, della digitalizzazione. È quindi un appuntamento importante che ha collegato e nasce da una collaborazione tra diversi soggetti, in primis Camera di Commercio che ha fortemente voluto questo festival, sostenuto dall'amministrazione comunale e in relazione con la bottanta che produrrà questo festival, ma in collaborazione anche con GAME e col Museo delle Storie.